Covid resta alta l'allerta in regione. La curva dei contagi in Campania sale al 3,4%. I nuovi positivi nell'ultimo bollettino sono oltre 1.100. Nel report quotidiano dell'unità di crisi si registrano anche otto morti. Stabile invece il tasso di occupazione delle terapie intensive, il leggero calo, i ricoveri ordinari. E con oltre 1.000 persone in quarantena, Napoli collegate direttamente o indirettamente al mondo della scuola, torna ad attualità l'ipotesi della didattica a distanza. La regione ha proposto la DAD dall'8 dicembre per frenare i contagi prima delle feste, ma è già polemica. Severino Nappi, consigliere regionale della Lega, parla di misura irresponsabile e cinica che serve solo a coprire le inefficienze di De Luca. Dall'esponente di opposizione la richiesta di investire su manutenzione, pulizia e trasporto scolastico. Intanto si rafforza la presenza dei presidi vaccinali dopo l'inaugurazione del nuovo centro voluto dalla Chiesa di Napoli a Rione Sanità. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l'arcivescovo Mimo Battaglia e il manager dell'ASL Ciro Verdoliva. Con la Chiesa, con tutti, con i cittadini, chiunque deve collaborare per poter far fronte a questa guerra contro il Covid. Stiamo vivendo e stiamo contribuendo ognuno a vincere tante piccole battaglie. Questo, un altro centro vaccinale, è importante perché vogliamo aumentare la capillarità dell'offerta dei vaccini. Il centro vaccinale Gocce di Carità è destinato principalmente alle fasce più deboli, a cominciare dai poveri e dagli emarginati.